Ciao, sono Luca Pedrazzoli e da tre anni faccio l'allevatore biologico. Ci troviamo in un nostro tipico allevamento bio, della catena Bio Primavera, nella zona del Basso Mantovano. Lavorare qui, per quanto sia dura, è molto ripagante. La mattina si inizia presto, si fa il giro delle stalle, si mette a posto il pagliariccio, si controlla il mangime e soprattutto si prende cura degli animali. Prendiamo ad esempio ciò che mangiano. Lo capisci che è tutto più naturale a partire dalla quantità. In un allevamento bio, l'animale deve mangiare di più o crescendo meglio. Qui, oltre al movimento che fanno, ciò di cui si nutrono è totalmente naturale, composto di materie prime biologiche certificate provenienti da terreni bio certificati. L'allevatore bio, per prima cosa, deve avere terreno bio. Da un lato, buona parte dell'alimentazione deve provenire dalle nostre produzioni biologiche. Dall'altro, è necessaria una quantità stabilita di terreno biologico per ciascun animale. Certamente qui, in un allevamento bio, il lavoro è più duro e più impegnativo per chi allena. Arrivi a sera che sei più stanco, ma devi dire una lunga ripagante. E alla fine, anche se la stanchezza è tanta, è tanta anche la soddisfazione di aver fatto per un giorno ancora una cosa ben fatta.